Tempo di primavera, tempo d'orto ed ortaggi. La campagna a causa nevicate e piogge intense è di un paio di settimane indietro rispetto ai suoi tempi, così amanti dell'orto casalingo o gli stessi produttori locali ancora devono effettuare i primi raccolti sostanziosi. Ciò che troviamo sui banchi o viene dal sud oppure dall'estero. Ma che cosa cova sotto la cenere, anzi per dire sotto la serra? Quali sono i prodotti da piantare in questa stagione e quali sono quelli che con i tempi della natura poi ci ritroveremo fra poco sui banchi di frutta e verdura? Lo abbiamo chiesto ad un produttore locale che nonostante la sua giovane età ha trovato nella campagna la sua dimensione professionale e di vita vissuta all'insegna dei sani valori. In questo momento di produzione troviamo poco, troviamo principalmente tanto lavoro perché è il momento in cui si fanno i principali trapianti per tutta la stagione estiva, tra cui pomodori, cetrioli, tutti gli ortaggi vari che si condivano nella nostra zona. Invece presto inizieranno le raccolte dei primi prodotti primaverili, diciamo che quest'anno sono tutti un po' in ritardo, tra cui troviamo i carciofi, i fava, i piselli, le fragole, la cipolla e tutti questi prodotti che ci fanno iniziare la stagione. Invece insalate e foglia larga cosa c'è? Si possono mettere bietole, insalate varie, la romana, la canasta, tutte le varie insalate estive. In questo periodo qual è il consiglio? Cosa gli consigli di mettere giù? Dai pomodori o melanzane, melanzane e peperoni ancora presto, però pomodori, cetrioli. Sul fronte della frutta qui siamo vicino a un frutteto, cosa avremo sui nostri banchi? Dai, tutte le frutte, dalle pesche, susine, albicocche, che comunque quest'anno hanno subito vari problemi, tra malattia e ritorni di freddo vari che ci sono stati, non è facile la gestione del frutteto. Acquistiamo frutta, verdura, possibilmente a chilometro zero, c'è tanta produzione qui nel nostro territorio, così almeno diamo una mano a chi come voi lavora e si sacrifica tutti i giorni. Sì, il lavoro in campagna non è facile, soprattutto per me che gestisco un'azienda biologica è un po' sempre un terno al lotto portare una cultura fino alla raccolta completa.